Salve a tutti, qui Antonio Cianci, raccata film per voi. Prima di cominciare vi riporto sotto nell'info box il link che vi condurrà al quizzone Film is Now. Domande a tema cinematografico con in palio numerosi premi, tra cui biglietti al cinema in omaggio. Quindi affrettatevi e mettetevi alla prova, che ci sarà da divertirsi. Ora, siamo di nuovo alle prese con un trailer review. Ma ditemi voi cosa c'è da recensire con questo materiale. Si punta tanto all'effetto nostalgia e alle emozioni primordiali. Un filmato di neanche due minuti che ci ha preso in contropiede e ci ha fatto girare la testa. Una clamorosa sorpresa che ci ha letteralmente ammutoliti. Stiamo parlando del teaser trailer di Toy Story 4. Toy Story 4, signori, inutile dire che è parte della mia infanzia e adolescenza. Possiamo istantaneamente riconoscerci in questi giocattoli pieni di vita, gioiosi, sprintosi. Woody e Buzz di nuovo alla riscossa, ma non vengono trapelate molte informazioni sulla trama. Solo briciole e accenni su come si potrebbe sviluppare il film. Sto cercando comunque di contenermi nel frattempo mantenendo un tono serio e impostato, ma come si fa? È il seguito di un franchise epocale che ha segnato la storia dell'animazione 3D e ha continuato ad appassionare e commuovere milioni e milioni di fan. Devo condividere questo entusiasmo con voi e dovremmo ancora stringere i denti per l'impatto che avrà sui nostri sentimenti. Ricomponiamoci, comunque ritroviamo in pratica tutti quanti nel filmato dai protagonisti assoluti a Jesse, Mr. e Mrs. Potato, Slinky, Rex, Ham, l'alieno. Ma ci sarà un nuovo arrivato in casa Bonnie, la proprietaria attuale dei giocattoli. Il suo nome è Forky, ma dice di non essere un giocattolo. Verrà accolto calorosamente, ma non sente di appartenere a quel mondo. Uno spunto di trama già indovinato che ci preparerà ad un'avventura sicuramente spassosa. Possiamo ritenerci al sicuro, i sequel non ci hanno mai deluso, dito i story. È sempre stato un percorso increscendo con tanta azione, battute memorabili e finali altrettanto memorabili. E avete saputo, no? Della notizia di Tom Hanks, doppiatore di Woody nella versione originale, che non riusciva a trattenersi dalle lacrime durante alcune scene importanti del capitolo di prossima uscita. Non riusciva lui a rimanere composto, chissà noi, una volta al cinema. Quindi preparate i fazzoletti che sarà meglio. Non si sa quindi nulla sul tono complessivo del film, sulla direzione intrapresa affidata a Josh Cooley, regista del corto primo appuntamento di Riley da Inside Out, e né sullo svolgimento nella sua interezza. È bastata questa sorta di clip di introduzione per ritrovarci di nuovo in quel mondo parallelo dove tutti noi vorremmo essere. Fa parte della nostra vita, è inevitabile, è qualcosa che ci ha segnato nel profondo. Compaiono i personaggi, il titolo, il numero 4 e non possiamo fare altro che saltare dalla sedia o scioglierci di fronte allo schermo. La Disney ha fatto di nuovo centro. Il 2019 sarà il suo anno, anche solo riportandovi i due Avengers 4 e Toy Story 4. Almeno come minimo 3 miliardi e mezzo di incassi. L'uscita di Toy Story 4 è prevista per giugno 2019 negli Stati Uniti e si spera anche da noi. Non fateci aspettare fino a settembre, sarebbe una tortura altamente devastante. Comunque teaser straordinario nella sua semplicità, ma hey, io sono di parte, potete capirmi. Antonio Cianci, il raccata film con il trailer review ha finito. Vi ricordo del quiz Film is Now sotto nell'info box e troverete anche link per visionare altre reviews realizzate dal sottoscritto. Un saluto dallo staff di Film is Now. Ciao, alla prossima! Musica Musica Grazie a tutti.